L'operazione si chiama Masterlist e parla ancora una volta di appalti truccati, sette arresti ai domiciliari ad eseguirli nelle province dell'Aquila, Taramocchieti e Pescara, la squadra mobile del capoluogo coordinata dal dirigente Tommaso Niglio, su input della procura di Avezzano. I reati contestati sono corruzione, turbata libertà degli incanti, falso e rivelazione di segreto d'ufficio. A finire in manette, ai domiciliari, Antonio Ruggeri di Avezzano, che è stato anche a capo della residenza sanitaria Exompi dell'Aquila, ex dipendente del Vaticano, Sergio Giancaterino di Penne, imprenditore etile ed affidatario di molti appalti pubblici, Antonio Ranieri, aquilano, pubblico ufficiale con incarico di Ruppo nel comune di Campotosto e ancora Paolo Di Pietro, consigliere di maggioranza ed ex vice sindaco del comune di Canistro, Giuseppe Venturini di Tagliacozzo, amministratore della società CAM, Giuseppe D'Angelo, sindaco del comune di Casa Canditella nel Chietino ed infine Emiliano Pompa, imprenditore di Montori a Vomano. I PM titolari dell'inchiesta sono Roberto Savelli e Maurizio Maria Cerrato. I comuni passati al setaccio sono stati diversi. Nel caso di Canistro l'inchiesta parlerebbe anche di appalti per i lavori ai cimiteri, nei tempi in cui Di Pietro era assessore ai lavori pubblici con il sindaco Antonio Di Paolo. In un altro filone dell'inchiesta, nel milino della procura, anche appalti nei comuni di Ovindoli, Cappadocia e Cerchio. Stamattina intanto sono arrivate le dimissioni di Giuseppe Venturini, da amministratore delegato del CAM. Ad innescare e dare il nome all'inchiesta è stata tra le altre cose una lista di ditte che per l'accusa si dovevano spartire numerosi appalti, sia in provincia dell'Aquila che nel resto della regione, scritte in un'agenda sequestrata nell'ambito della perquisizione effettuata ai danni di Gian Caterino. Secondo gli investigatori il meccanismo più usato era quello di rispondere alle gare con le ditte d'accordo con chi avrebbe dovuto vincere tra loro, stabilendo assieme il massimo ribasso. L'obiettivo era far partecipare tutto l'elenco delle ditte e far ruotare i vincitori. Dalle intercettazioni sarebbe emerso anche l'accordo relativo alla gara per il municipio di Canistro, appalto da 480 mila euro. 20 mila euro sarebbero andati alle ditte e agli amministratori, attraverso contributi e consulenze. L'appalto poi però non andò a buon fine. Le indagini hanno riguardato anche il comune di Campotosto, nell'Aquilano in particolar modo, l'appalto per la manutenzione dell'area di campeggio e della struttura del centro velico. Le aste pubbliche bandite dall'Unione dei Comuni delle Colline Tlatine, di cui il comune di Casa Canditella è capofila. A tal proposito, al centro dell'inchiesta, ci sono i lavori di riassetto territoriale dell'area a rischio idrogeologico della località Colle Grande del comune di San Martino sulla Marrucina e ancora a Capistrello la gara relativa ai lavori di manutenzione del depuratore eseguiti dal CAM. Grazie a tutti.